Allora qual'è il pulsante che ha fatto? Buongiorno. Salve. No giusto perché il pulsante è come prima no? Ma cos'è che ha fatto poi? Ma cosa c'entra con schede? Cosa c'entra con lei? 400 euro gli avete preso eh. E non so cosi c'è eh. Allora adesso vi faccio vedere eh. Una roba alla volta. Tutto il pozzetto. Nell'acqua l'aveva lasciata chiusa eh. Qui qualcuno l'ha aperta. Vedi che è aperto qua. L'ho aperto. Allora. Lo facciamo qui. Lo facciamo. Un minuto. Qui. Vedi? C'è l'occhetto ma è aperto. Perché? Eh l'era vera. L'ho la so vera messa. Qui vi faccio vedere. Da sarò al su. Qui? No no. È inutile che te la fai vedere. Aspetta 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 aspetta. Qua ca' tu per la cascilla spaccala. Aspetta. Questo qua. Come lo chiamate voi il bordone di ghiaccio? Come lo chiamate? Una punta di ghiaccio. Perché usciva l'acqua? Si. E si è tolto il rubinetto. Venga a vedere cosa è successo. No ma l'ha inutile che te la fai. Meno una ca' tu per la ghiaccio. Venga lui. Se mi è andassuta a mano. E poi manda. Mi faccio vedere. Si ma ho capito. Qua ca' tu per la ghiaccio la spaccala. Perché la ghiaccio la ghiaccio la ghiaccio la ghiaccio la spaccala. Comunque senta. Allora qui c'è la maniglia no? Eccola qua. Vedi? Eh no dove di nome. Va bene. Vuole che gira sempre. Vedi? Eh. Vedi? E chi l'ha fatto quello? Quel che l'ha fatto? Io no di sicuro. Io no di sicuro. Io non mi prendo da un cantiere vicino a Ramella. Ma questo è sanato l'acqua. Eh? È sanato. È chiuso su. Eh? Oppa. Insomma chi ha le chiavi in anni che hanno le chiavi qui non è mai successo niente. Comunque. Qualcuno ha... Eh va bene. Comunque l'importante è successo. Qualcuno ha le chiavi in anni che... Chi so chi è che compra la casa e quando la compra. Perché fino adesso non c'è dato... No no ho telefonato a sua sorella e gli ho spiegato il... Eh ha dato il numero a mia sorella? Ha dato il numero? Sua sorella sa tutto. Ma ha dato il numero del compratore? Tutto di tutto. Eh vediamo. Allora. Perché adesso non si è comprato niente. Qui c'è stato un danno e abbiamo pagato un sacco di soldi. Quello c'è stato. L'unica cosa che abbiamo comprato è... Scusa. Scusa. Pensate. Se non ci fai di bucciare a chi non è... Chi da fiocco là? Qui stavolta qua è stata provocata comunque eh. Scusa. È stata presa o qualcuno l'ha fatta eh. Io non lo so, non lo so. Qualcuno l'ha fatta. Scusa. Qualcuno l'ha fatta. Porco Dio. Qualcuno l'ha fatta. Pensate eh. Comunque allora lei ma sorella ha dato tutto nome con nome e quando è...